La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo per bancarotta fradolenta patrimoniale e documentale e denunciato tre persone. Le indagini hanno riguardato due società operanti nel settore dei servizi di sostegno alle imprese e della somministrazione di lavoro interinale alle imprese, dichiarate fallite nel 2021. L'indagato amministratore unico delle fallite avrebbe sottratto e distrutto scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Le fiamme gialle hanno sequestrato la somma di circa 1.590.000 euro, oggetto di distrazione a valere sui conti correnti bancari, intestati o comunque nella disponibilità dell'indagato.